La tutela dell'ambiente continua a essere la stella polare dell'azione politica europea e di ogni singolo Stato, soprattutto nell'ultimo decennio. Nel nostro Paese l'arma esprime una straordinaria funzione di prossimità ambientale, compie quotidianamente un'opera di prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale e forestale, contrastando i crimini in materia di rifiuti. Non a caso la natura è la protagonista del calendario storico 2023. La missione verde dell'arma, che a livello nazionale può contare la più grande forza di Polizia Ambientale d'Europa, si concretizza nel territorio nisseno non solo nella prevenzione e nella repressione degli illeciti legati all'ambiente, ma anche nella presenza dei carabinieri nelle scuole, allo scopo di promuovere tra i giovani l'educazione ambientale, sensibilizzandoli al rispetto della nostra terra e alla salvaguardia delle bellezze naturali del nostro territorio. Come sottolinea il colonnello Vincenzo Pascale, comandante provinciale dei carabinieri di Caltanissetta, la funzione di prossimità ambientale dell'arma è assicurata in questa provincia, dalla quotidiana attività svolta dei presidi dislocati in tutta la giurisdizione e dal prezioso e qualificato supporto dei carabinieri forestali del Centro Anticrimine e Natura di Agrigento e dal nucleo operativo ecologico di Caltanissetta presente a Gela. È questo l'humus che ha ispirato il progetto nazionale No Albero per il Futuro, che prevede la donazione alla messa a dimora nelle scuole italiane da parte dei carabinieri di migliaia di giovani alberi. Fra questi l'albero del giudice Falcone, un particolare fico che cresce nei pressi della casa del giudice simbolo della lotta alla mafia, le cui gemme sono state duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale di Pieve e Santo Stefano in provincia di Arezzo e che sono state donate all'Istituto Leonardo da Vinci di Niscemi lo scorso 7 novembre. Per tutti questi motivi nelle ultime settimane è stata incessante l'opera di protezione del territorio da parte dei carabinieri di Caltanissetta, che a Dele a buon pensiere hanno deferito e stato di libertà due persone titolari di un'azienda ortofrutticola ed un'impresa edile per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, con il conseguente sequestro di oltre 4.000 metri quadrati di superficie ai fini della successiva bonifica, quattro aree demaniali per un totale di circa 7.000 metri quadrati, sulle quali erano stati rinvenuti i cumuli di rifiuti, anche speciali pericolosi, in gran parte riconducibili ad attività di demolizione edilizia. Inoltre, lo scorso 4 novembre a Gela, i carabinieri hanno accertato la presenza di un allevamento abusivo con quattro cavalli, con la conseguente denuncia all'autorità giudiziaria di un 62N e di tre depositi incontrollati di rifiuti pericolosi per una superficie complessiva di circa 800 metri quadrati.